Iniziare questa miniserie intitolata, non ho un titolo, Sad Moment Comunque questa serie è basata sui scambi prodigiosi dove appunto, indovinate cosa farò Sad Moment per due Appunto farò gli scambi prodigiosi Quindi io direi di iniziare subito Faccio questa serie per ingannare il tempo ragazzi, visto che non ho ancora il pc Che cazzo trema il telefono, Dio Adesso chiamo lo scambio prodigioso E io direi di scambiare qualche sebolai che non mi serve O che è tipo lui con sguardo fermo Quindi io direi, no però Cribbio il telefono mi trema Comunque io direi Di aspettare Ma no E comunque Ah che dovevo dirvi, dovevo dirvi cosa molto importante Che il videolotta potete inviarmelo massimo per sabato Quindi non più per giovedì che sarebbe oggi Ma vi ho dato di scadenza fino a sabato Anche perché mancano ancora diverse lotte Quindi Ludwisk Mamma mia Meglio di chiogre Lu si è inviato Ludwisk Proprio utile Che adesso noi ovviamente andremo a riscambiare Perché no Oh avete visto il mio dito Iiii Tanto sono al Bosco Novartopoli Per chi se lo chiedesse ero al Bosco Novartopoli Perché volevo Avere Un'elettropalla per il mio Pichu Esatto Mi sto facendo un Pikachu perfetto Lol Perché mi andava Per chi se lo stesse chiedendo Anche se questo Pichu Presenta delle Imperfezioni Perché è timido Però non ha IVS In attacco speciale Ah e nei commenti consigliatemi Se è meglio Pikachu Deciso O speciale Lo sono sempre chiesto Intanto Può andare anche a fanculo Lo dischi di merda Speriamo bene in quest'altro scambio prodigioso E nulla Vedemi un po' Come Ve la state passando Signori Io Bene Sto tipo Uscendo la sera Torno alle 2 All'1 Dipende dai vari casi E mi sveglio a pranzo Roll Tipo La canzone di Gucci Boy Non so Se lo conoscete Ma credo che lo conosciate E' un grande Bello figo gu Uuu Trabbish Che merda Nel vero senso della parola Che merda Il pokemon Il pokemon Merda E Cioè ma poi Io vorrei pensare No Penso In determinati casi Ma la nintendo Che cazzo pensa Quando fa questi pokemon No No seriamente Perché fare il pokemon Spazzatura Cioè Perché Ok Noi andremo subito a riscambiare Il tizio Anche se potrebbe essere interessante Perché a livello 1 Natura cauta Beh Potrebbe essere Un'ottima natura per lui Anche perché Non so se sia Attaccante fisico speciale Se sia Se sia attaccante fisico Potrebbe andare anche bene Anche perché Gli potenziali Difesa speciale Di scabito D'attacco speciale Vabbè Io Diciamo che Nel Nell'inconsapevolezza Me lo tengo Non ho più Seblay Da scambiare Merda Posso dare No Chi cazzo posso scambiare No Lui no Vabbè dai Tanto già ce l'ho Seblay Perfetto Lo scambio non la cazzo Anche se è burro Tipo che Nella camera Del